Un volume ripercorre i 70 anni di attività politica di Ettore Paganelli che nel corso della sua vita pubblica è stato sindaco di Alba, consigliere e assessore regionale, deputato e sottosegretario. Ad Alba, alla presentazione del libro intervista curato da Claudio Buppione, sono intervenuti il presidente Sergio Chiamparino e il sindaco della città Maurizio Marello, numeroso il pubblico che ha reso omaggio a uno dei protagonisti della nascita e dei primi anni di vita della regione.